Radio Bruno Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora ragazzi come è andata? Bene bene! Abbiamo visto delle cose di Bologna che ne avrei mai detto! Lei è la più bella! Il più birra! Il più bello e ce la faremo tutti! Il più bello e il più bello e il più bello!